50 anni di storia di televisioni e radio private in Puglia dalle prime antenne degli anni 70 all'era digitale. Questo il lavoro di ricerca racchiuso nel volume radio e tv locali pubblicato dal Corecom, il Comitato regionale per le comunicazioni realizzato dall'Università di Bari. Il libro presentato in consiglio regionale è un focus sul ruolo svolto dalle emittenti locali, 35 le tv ed un'ottantina le radio in attività per lo sviluppo del pluralismo dell'informazione e sui riflessi sociali ed economici legati alla crescita del settore. La parte del leone spetta al gruppo Norba. Norba si è costituita come network perché ha fatto network con le altre imprese presenti nel territorio e poi è diventata Norba, cioè qualcosa di molto particolare che non ha più un significato solo locale ma anche nazionale. A cavallo fra anni 70 ed 80 nascono una nuova economia, nuovi ceti sociali e nuovi consumi. Telenorba è in grado di intercettare tra le prime emittenti pugliesi appunto queste novità e si fa anche difensore cercando di stabilire un nesso molto stretto tra sistema radio televisivo e produzione locale. Un pezzo di storia pugliese che mancava all'appello. Che ha svecchiato enormemente questa regione facendola diventare una regione moderna e proponendola anche al di fuori dei confini regionali come una regione moderna descrivendola così.